vinto ma finché non lo mettiamo in campo non lo possiamo sapere quindi il primo ottobre si inizia a bloccare tutto vi dico di più fatevi la scorta alimentare perché nei momenti in cui i camionisti bloccheranno tutto non arriveranno le materie prime quindi prendetevi il necessario in casa fate in modo di avere perché ha figli le cose che gli occorrono ma vi prego rimanete a casa non andate al lavoro questa è l'ultima possibilità che ci è rimasta grazie per farsi una spesa a questo punto conviene vediamo come va la manifestazione